Sono senza un lavoro i 270 agenti dell'ipervigile di Nocere Inferiore. Ieri sera c'è stato lo strappo definitivo. La proprietà non ha potuto più assicurare la continuazione delle attività. Sfumata quindi ogni possibile speranza di ripresa, con il rappresentante della famiglia De Santis costretto ad uscire scortato dalle forze dell'ordine. Questa mattina la protesta si è trasformata in occupazione dello stabile. E' stato impedito a tutti di entrare nella sede centrale di via Michele Riccio. Nemmeno la centrale operativa ha funzionato, con conseguente aumento dei rischi per gli agenti che hanno comunque piantonato gli accessi degli istituti di credito. La tensione all'esterno della struttura dell'ipervigile si tagliava con un coltello. Tutta questa situazione dispiace perché abbiamo portato un'azienda a crescere. Scusatemi dell'espressione, avere delle fece in faccia. De Santis è una persona talmente indegna di se stessa che non riesce nemmeno a guardare in faccia i dipendenti. Come infatti ieri sera, quando lui è andato via ascoltato dalla polizia, non ci ha guardato nemmeno in faccia. Non aveva nemmeno il coraggio di guardarci e di dire che sì, è finita. Che noi abbiamo fatto una protesta, stiamo facendo una protesta civilmente e non minacciamo nessuno. I lavoratori hanno presentato nei confronti degli amministratori denunce per frode fiscale, manzioni non retribuite e fondi arca. Nelle prossime ore, mentre si attende la convocazione di un tavolo istituzionale, la protesta potrebbe acuirsi ulteriormente. I prossimi passi dobbiamo andare a Salerno al prefetto a parlare con il prefetto, il vicario, per sapere, per incontrare queste società che sicuramente si devono sedere a tavolo con noi, devono trattare con noi. Sicuramente noi da qui non ci impreviamo, da qui lotteremo fino a quando non verranno, molto probabilmente domani, questa società che si dice di siciliana, palermitano, non so chi fosse, stiamo qua e incontriamo loro per vedere effettivamente loro che cosa vogliono e che cosa ci danno.